Sono il nuovo direttore della zona territoriale di Senigallia, sono arrivato qui da poco meno di un mese, da un mese, dal 23 di luglio e mi sono cominciato a occupare i valori principali. In particolare oggi sono molto contento di poter annunciare che siamo riusciti a sbloccare una situazione importante, completiamo quello che è il monoblocco dell'ospedale. Cosa vuol dire? Vuol dire che realizziamo la sala operatoria a servizio nuova, a servizio dell'ostitrice di ginecologia e rendiamo disponibili le tre nuove sale parto. In questo modo noi entro l'estate prossima avremo un reparto nuovo di ostitrice di ginecologia che sullo stesso piano avrà a disposizione tre sale parto nuove e una sala operatoria nuova. Quindi un reparto che già funziona molto bene perché accoglie donne che vengono a partorire anche da altre zone avrà anche un reparto operatorio e parto nuovissimo e questo ovviamente attirirà da noi anche altre persone.